264 milioni di euro per ripartire dopo l'emergenza coronavirus. La Regione Toscana, con un accordo con il Governo, ha rimodulato una parte dei fondi europei che saranno subito riutilizzati per far fronte alla crisi. Dei 264 milioni di euro, 141 sono destinati a sostenere l'economia, una manovra importante in un momento difficile. A questa si accompagnerà anche una modifica e faremo un assestamento domani, se il Consiglio l'approverà, che metterà a disposizione altri 39 milioni circa di risorse. Quindi in tutto sono circa 300 milioni di risorse e alla fine circa 200 andranno per l'economia. Mi sembra un'ottima operazione con la quale si chiude bene la legislatura. Il piano di ricostruzione toscano dunque parte da qui, con risorse in arrivo dall'Europa. L'intervento di maggior spessore è rappresentato dai 115 milioni per contributi a fondo perduto destinati alle piccole e medie imprese che abbiano sostenuto investimenti materiali ed immateriali. Quindi capite che rispetto al passato sostanzialmente si configura come un aiuto, una misura di liquidità e rispetto alla progettualità si configura per quello che è il suo corpo centrale, una proposta pressante verso il futuro, verso gli investimenti, verso la sollecitazione di un effetto moltiplicatore. Dei fondi europei riprogrammati, 70 milioni saranno destinati alla sanità, 30 al sociale, 25 ai comuni, 17 al turismo ripartiti in 10 per campagne promozionali e 7 per le aziende che hanno subito la crisi, 5 alla scuola e altrettanti per l'edilizia scolastica e il volontariato.